Certi dicono che è meglio di quella vera. È meglio di quella vera. Sì, ha un bel aspetto. Ma per il resto? Un po' di movimento, un po' di chiacchiera. Magari una simpatica capriola. Ehi, è venuta molto bene. Sarai molto contento, lo giuro. A tutto quello che mi hai chiesto, tutti i programmi extra, informazioni reali, profili che mi hai dato sulla famiglia e gli amici. Hai detto programmi extra, vero? Tutta la roba che volevi. Le reazioni e le varie situazioni. Sai, un certo talento particolare. Tutto quanto. Hai detto che adesso posso andarmene... Aspetta, non sono sicuro di essere un cliente soddisfatto. È un pochino lucida per me. Sai, forse con un tocco di fondotinta... Spike! Oh, Spike! C'è un punto debole, eh? Proviamo. Fai del tuo meglio. No! Allora, questo è il tuo meglio, cacciatrice? No. Perché no? Vorrei farti del male, ma non so resistere alla sinistra attrazione del tuo corpo freddo e muscoloso. Dovrei ripagarti per la tua gentilezza e lasciarti andare. No! No, Spike! Non lasciarmi andare mai. Sai che dovresti avere paura di me? Sono cattivo. È vero. Sei molto, molto cattivo. Vuoi farlo così, vero? No. Così? Non puoi farlo. Non potrei mai farlo. Sono inerme contro di te, mio nemico. Tu sei perfido. E questo ti eccita? Mi eccita e mi terrorizza. Cerco in tutti i modi di resisterti e non posso. Sì? Si è dannata la tua sinistra attrazione. Hai paura di me? Sì. Sai che non posso morderti? Io credo di sì. Credo che puoi farlo se te lo permetto. E voglio permettertelo. Voglio che mi mordi e mi divori fino a che non resterà più niente. Così? Oh, Spike, divorami. Va bene. Spike, non posso farne a meno. Io ti amo. Sei mia, Buffy. Devo inserire il programma da capo? Zitta, non usare quella parola. Sì, soltanto Buffy. Mhm. Ci vediamo, ciao. È il momento di uccidere. Sì. 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 Vampiri di tutto il mondo, state attenti. Sì.